Capita mai che After Effects mi faccia questo scherzetto? Nel momento in cui provo a visualizzare un'anteprima di un'animazione che ovviamente c'è, funziona ed è corretta, mi arriva questo messaggio di errore. Ora, questa è una cosa che si può provare a fare. Svuotare la memoria cache del disco. Vediamo che ci mette qualche secondo. Questo dovrebbe liberare spazio in maniera tale che l'anteprima possa essere renderizzata correttamente. E infatti, eccola qui.